Ciao, vi saluto, benvenuti sul mio canale. Per chi non mi conosce, io sono Magda e come di solito sul mio canale ho scelto di parlare di Oriflame. Specialmente in questo video parlerò dei prodotti Novage, della linea dei prodotti Novage e del set Time Restore. Il set Time Restore è un set di 5 prodotti con ingredienti naturali, con anni di ricerca, sviluppati e testati clinicamente. Clinicamente significa che questi prodotti sono stati testati sui volontari umani. Il set Time Restore è il set che viene consigliato alle donne più mature, alle donne che hanno superato 50 anni. Sappiamo che a 50 anni i problemi o magari la nostra pelle ha bisogno di una cura molto più intensa, con i prodotti molto più forti, con i risultati visibili. Perché a 50 anni ci manca l'elasticità, l'idratazione, le rughe profonde, le macchie dall'età, le macchie che compaiono non solo dal sole o dai ormoni, ma anche da un altro problemino che si installa a questa età, che sappiamo tutti è la menopausa, che riduce l'elasticità della pelle, riduce l'impolpamento della pelle perché la pelle comincia a lasciarsi. Ma Novage da Oriflame c'era la soluzione per le donne che hanno superato 50 anni, che vogliono avere una pelle idratata, luminosa, senza rughe e molto potenziata. Allora, la nostra soluzione si chiama Time Restore. Il set viene consegnato in una scatola così, il set contiene 5 prodotti che vi presenterò subito e vi presenterò anche il modo come si usano. Alla fine farò il video, non ce l'ho 50 anni, ma vi farò vedere come si usano questi prodotti. Oriflame per tutte le donne offre un'unica soluzione per curarsi la loro pelle e ha creato una routine di bellezza che si fa tutti i giorni, mattina e sera, non più di due minuti. Una routine che sono i piccoli gesti che si fanno ogni giorno e portano grandi risultati. Allora, cosa fa questo set? E poi vi presento anche i prodotti. Questo set aumenta l'elasticità fino al 84%, potenzia l'idratazione fino al 71%, quindi grandi risultati e poi vi dico anche le persone che hanno provato quello che hanno detto. Le rughe profonde levigate fino al 82% e riduce le macchie pigmentari fino al 70%, le macchie dall'età. Questo test clinico, perché questi risultati sono i risultati che hanno ottenuto le donne che hanno provato questo set. Il test clinico è stato fatto su 77 persone, donne specialmente, perché questo set è per le donne, abbiamo anche per i uomini e vi lascio il video in descrizione anche con la routine per i uomini. Questo test è stato fatto su 77 donne, con l'età fra 55 e 75 anni e 97% di loro hanno confermato che l'elasticità, l'idratazione, le rughe e le macchie sono aumentate fino al 97% e poi io vi ho detto le percentuali per ogni categoria. Vi presento i prodotti e come si usano. Per il primo step della routine di bellezza, specialmente le set Time Restore, abbiamo il Cleaning Gel. È un gel perché per prima volta, prima di usare i prodotti per idratare la nostra pele, dobbiamo pulire la nostra pele. E Oriflame offre un'unica soluzione anche qua, per il primo step, ci laviamo e si tonifica la pele con questo prodotto. È un gel che non contiene il sapone, si mette sulla pelle bagnata, si massaggia bene, farà un po' di schiuma e alla fine si risciacqua con acqua in abbondanza. Questo è il primo step, quello di pulire il nostro viso. Il secondo step, si usa la crema contorno occhi e contorno labbra. Attenzione, per questo set abbiamo una crema che si presenta in questo barattolino piccolo che si usa contorno occhi e contorno labbra. Questa crema non contiene profumo proprio perché viene usata contorno labbra e contorno occhi per non dare fastidio e da 50 anni in più dobbiamo correggere anche le rughe che vengono contorno alle nostre labbra. Non lo so quanti prodotti delle altre marchi ci hanno pensato che questa crema può essere usata sia per gli occhi sia per le labbra, perché di solito si usano due prodotti diversi. Bene, per il terzo step si usa il siero, il siero che viene absorbito subito dalla nostra pelle, lavora in profondità e aiuta e potenzia l'effetto della crema. Il siero, poi vi lascio il video come faccio io la routine di bellezza, si mette sotto il viso e si massaggia bene, viene absorbito subito, non lascia la pelle grassa. Per il quarto step abbiamo due prodotti, due creme, crema giorno e crema notte. Questi prodotti non si usano insieme, contemporaneamente. Se facciamo routine la mattina, la nostra routine di bellezza la mattina, usiamo per il quarto step la crema giorno, la crema giorno che c'è la protezione solare che dà energia alla nostra pelle durante la giornata. Quando facciamo la nostra routine, facciamo i primi step, il quarto step usiamo la sera la crema di notte. La crema di notte che è molto più idratante rispetto alla crema giorno e aiuta il rinnovamento cellulare durante il nostro riposo notturno. Bene, questi sono i prodotti dal set Time Restore. Questo set si usa specialmente dalle donne che hanno separato a 50 anni e aiuta molto l'idratazione, aumenta l'elasticità, riduce le rughe e riduce anche le macchie pigmentarie. Spero che vi sia piaciuto questo video, vi lascio alla fine di questo video, ci troviamo in bagno dove vi faccio vedere come si usano questi prodotti. Io specialmente ho usato il siero perché avevo bisogno di potenziare un po' l'aspetto della mia pelle dopo che ho partorito e ho usato il siero da questo meraviglioso set che il siero contiene piccole capsule con i prodotti. Non vi ho detto quale è il prodotto meraviglioso che contiene questo set. Sono cellule staminali estratte dal genisteina soia che aiuta al rinnovamento cellulare. Questo ingrediente speciale si trova in tutti i prodotti per quello che Novage, Biori Flame ci dà la possibilità di acquistare tutti i prodotti insieme perché tutti i prodotti insieme ci danno un risultato migliore rispetto solo a una crema o due prodotti, magari il gel detergente e la crema. Questi prodotti usati insieme ci danno il risultato migliore per quello che Oriflame ci dà la soluzione e ci vende tutto il set insieme. A parte che comprando tutti i prodotti in set è molto più conveniente anche per noi. Vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto questo video lasciatevi un bel like e condividetelo magari anche alle vostre amiche che hanno sparato 50 anni. Ciao, ci vediamo in bagno! Adesso ci troviamo in bagno e vi voglio presentare come si fa e come si usano i prodotti e quali sono i quattro step per fare la routine di Novage. Per il primo step dobbiamo pulire il viso, usiamo il gel struccante, si applica sul viso bagnato e si fa un bel massaggio. Io uso di solito l'apparecchio Pureen Skin e passo su tutto il viso. Questo è l'apparecchio Skin Pro Sonic che usa le vibrazioni e mi aiuta a esfoliare. Io lo uso due o tre volte a settimana, non sempre, ma in questo video vi volevo fare come lo uso io. Se vedete bene nel video non fa tanta schiuma il gel detersivo e poi si risciacqua con l'acqua in abbondanza. Mi risciacquo bene il viso, io uso gli asciugamani uno al giorno, di quelli piccoli. Per il secondo step adesso vado ad applicare la crema con tornocchi. Vedete, è molto semplice da applicarlo. Poi massaggio con il dito in elario perché non vado a pressare, non c'è tanta forza in quel dito e alla coda dell'occhio faccio dei massaggi dove praticamente ci sono le rughe per aiutare la crema di entrare e di idratare quella zona. Poi per il terzo step uso il booster o il siero, come vogliamo dire, lo metto sulle mie dita e poi vado ad applicare su tutto il viso con i movimenti molto basici, molto semplici e provo di andare da giù in su, di aiutare la pelle. Bene, ho applicato anche il booster che si absorbe subito, lascia la pelle mattifiata, mi aiuta poi, aiuta l'effetto della crema. Vado ad applicare la crema, prima lo metto sotto il viso e poi vengo a stenderla. Questi quattro step li faccio mattina e sera, non dura più di due minuti e nel tempo mi danno dei risultati migliori. Io per esempio ho migliorato l'aspetto del mio viso senza macchie, senza bruffoli e molto più luminosa, idratata, radiosa. Vi ringrazio per la visione e spero che vi sia piaciuto. Ciao ciao!